Buonasera, vorremmo sapere lei come mai lavora qua alla Fiat al collaudo mentre so che avrebbe tantissime possibilità di poter andare in lato, ci puoi spiegare chi potrebbe conoscere? Io ho delle possibilità grandissime, non mi posso esprimere perché c'è un pezzo di merda che sta portando Però se lei guarda anche la telecamera magari Io non posso e non voglio dire chi conosco o non conosco Si dice il peccato ma non è il peccato Bravo Perché non ho mai conto Chi è quel signore che è intervenuto? Per favore Si calmi un attimo Come Mancini Silvio Non vogliamo sapere il nome ma almeno la categoria e il rango Direttore, vice direttore, administratore delegato A livello Fiat è un personaggio molto molto importante anche a livello sportivo Maa, 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 maa Grazie!